Benvenuti sul mio canale ragazzi, io sono Eli Gabriel e oggi siamo qua in un unboxing, test e analisi in merito ad un paio di cuffie particolari Subito dopo la sigla Ho di recente acquistato le SteelSeries Arctis 1 wireless prese su Amazon a 119€, presumo a prezzo abbastanza pieno Quindi partiamo innanzitutto con le solite classiche domande, perché di questa scelta? Allora innanzitutto avevo bisogno di un headset wireless, questo era il primo punto della lista in merito alla scelta di un nuovo paio di cuffie E che poi avesse tutti i vantaggi di un headset da gaming diciamo Mi sono quindi poi informato andando su internet a fare qualche ricerca sulle possibili cuffie che avrei potuto comprare Su quelle che ci sono attualmente sul mercato e sono poi andato a ricadere su questa scelta, su queste cuffie nel particolare Perché altre non mi avevano convinto pienamente in merito ad alcuni problemi che presentavano Magari con un microfono che non si sentiva benissimo, con la durata della batteria che non era longevissima Insomma tante varie cose che poi mi hanno quindi effettivamente portato a scegliere per questo headset qua Alcuni di voi come ben sapranno conoscono la mia storia, io attualmente ho queste HP Omen Delle cuffie abbastanza buone, insonorizzano per bene Sono delle buone cuffie, si sente bene, si sentono bene i bassi, il microfono è abbastanza buono Gli unici aspetti negativi che ho trovato comunque durante questi anni è che innanzitutto Se c'è una ventina di gradi o poco più alto fanno un caldo assurdo dopo qualche ora Ovviamente lì dipende secondo me anche da testa a testa, io adesso ho un po' di capelli Quindi può essere anche per quello che mi diano parecchio fastidio Altra cosa negativa come potete ben vedere dalla mia scrivania C'è il cavo che passa sotto il case e poi si collega dietro nel pannello dietro Adesso ho spostato tutto ma comunque questo cavo mi dà molto ma molto fastidio Non riesco a girarlo da qualche altra parte perché non è lunghissimo Potrei pensare ad una prolunga ma meglio di no L'ultima cosa che vi segnalo è che da quando ho cominciato a riutilizzarle Mi stanno veramente dando fastidio alla testa proprio sopra dove poggiano Non sono leggerissime ok ma non sono neanche pesantissime da quelle che sono riuscite a provare Solo che dopo almeno un'ora o poco più che le tengo inizia a darmi fastidio alla testa proprio qua sopra Quindi penso sia un problema di cuffie Ripeto il problema ve l'hanno iniziato a dare quando ho ricominciato ad usarle E vi parlo di almeno 3-4 mesi fa Ok quindi parlato di ciò possiamo andarle a vedere insieme Ok andiamo quindi ad analizzare la scatola Innanzitutto quello che ci viene scritto all'esterno della scatola di come ci viene presentato il prodotto Queste sono le cuffie come potete vedere dall'immagine Cose principali ci viene detto che il microfono è staccabile 20 ore di durata della batteria E hanno le rinforzi in acciaio sulla banda che va sopra comunque la testa diciamo Altre cose che ci vengono dette ovviamente Sono tutti i componenti che ci sono all'interno del dispositivo Come viene collegato Che poi comunque andremo a vedere sono cose che andremo a vedere insieme I vari dispositivi a quale potete collegarli Non si parla di Xbox ma ho letto che comunque potreste collegarla anche all'Xbox Però via cavo Ok quindi è un po' una sfiga diciamo Nel senso che con queste principali console riuscite a collegarle con il dangle Ok quindi per andare via wireless Mentre con l'Xbox dovreste andare via cavo Altre informazioni diciamo inirenti alle features che portano Come sono strutturate Certificato anche con Discord Quindi tanta roba tanta roba no E poi sul lato sinistro invece troviamo infine le votazioni generali Però queste riguardano anche altri headset Come potete vedere Artis 7 L'Artis Pro più GameDuck Insomma tanti prodotti di questa marca di questo modello Che vengono votati bene Quindi si presume che siano abbastanza buoni come prodotti diciamo in generale Andiamo quindi ad unboxarlo Ok quindi andiamo ad aprire questo headset Vediamo cosa abbiamo all'interno Headset nuovo eh Quindi non è usato o altro Ci sono tutte le parti che ci vengono anche spiegate sulla scatola Ehi dai Ok Qua ci vengono già a comparire delle scritte For Glory Una faccina sorridente Attenzione Non so se la vedete Cosa ci sarà mai scritto Comunque Manuali Ma facciamo una cosa Li andiamo a vedere dopo Quindi metto un attimo le cose da parte Vediamo cosa c'è all'interno della scatola E qui ci troviamo già Diciamo tutto Il necessario Tutto l'occorrente Allora Quindi microfono È abbastanza corto come potete vedere Se ve lo posso comparare con un cellulare Diciamo che comunque Non è lunghissimo Meno di 10 cm Giusto per vederlo Così a spanne L'headset Che Diciamo sembra abbastanza leggero Però Ci sto un attimo pensando su Allora questo quindi è il contenuto della scatola Ovvero manuali Microfono Dongle Cavivari Headset Partendo dai manuali Possiamo andare a vedere cosa ci viene scritto Probabilmente ci sarà la garanzia E istruzioni Magari su come configurarlo Questo è un cartoncino Con su scritto Le solute informazioni riguardanti Il fatto che dovete andare a fare una recensione Per forza No sto scherzando Niente all'headset Poi questa è una guida Dove viene spiegato come funziona Presumo principalmente Poi la carica Poche informazioni comunque Però che vi descrivono Il prodotto I vari collegamenti Quindi manuali da parte Come avevo detto Microfono Con jack da 3,5 Dongle con USB C Poi passando ai cavi vari Ne abbiamo principalmente tre Ovvero Uno che funge da USB da un lato E Femmina Type C Quindi potete collegare alla fine Il dongle Dove vi pare Su qualsiasi dispositivo Cavo Maschio maschio Jack da 3,5 E infine Un USB Micro USB A Quindi presumo che serva principalmente Per ricaricare poi Effettivamente L'headset Analizzando in primis le cuffie Possiamo notare che risultano essere molto leggere Hanno un'anima in ferro all'interno Per garantirne stabilità Flessibilità E leggerezza Possiamo poi estendere le cuffie Per adattarle a misura della nostra testa Sul lato destro abbiamo il tasto di accessione con i led di stato Mentre sul padiglione sinistro abbiamo il microfono staccabile Con porta jack da 3,5 Che può essere utilizzata per collegarsi direttamente ad un apparato con lo stesso ingresso Così da collegarle via cavo Poi c'è la regolazione del volume L'attivazione e disattivazione del microfono E la porta micro USB A Per la ricarica Questo headset ha degli speaker con impendenza da 32 ohm Una frequenza di risposta che varia dai 20 ai 20.000 Hz Per quanto riguarda il microfono invece abbiamo una frequenza di risposta che va dai 100 ai 6500 Hz Ed è presente la cancellazione di rumore bidirezionale La connessione dell'headset avviene attraverso la frequenza 2.4 GHz wireless Con un range massimo di 9 metri La batteria infine ha una durata presunta di circa 20 ore di utilizzo Le cuffie poi sono compatibili con diversi sistemi Tra cui PC, Playstation, Xbox, console Nintendo, smartphone e molto altro ancora Allora io andrei a fare qualche prova su Windows Quindi per collegarlo su questo sistema Posso utilizzare la prolunga diciamo USB, USB C La collego al PC Vediamo se lo riconosce in qualche modo Cuffia, sì Ottimizza la mia periferica Assolutamente no Andiamo ad accendere le cuffie Dal tastino che c'è sul padiglione destro Le ha già riconosciute Ok? Mi ha già detto che sono queste le cuffie Le sto già sentendo Le sto già sentendo Quindi possiamo definire come plug and play Molto semplicemente Provo a riprodurre un audio Giusto per capire come si sente La musica Canzoni senza copyright di YouTube Bassi non troppo aggressivi Bassi nella media Ho sentito di meglio Di bassi Provo a mettere il volume massimo C'è il microfono C'è il microfono che è proprio sotto alle cuffie Quindi già si sente se c'è Qualche diciamo fuoriuscita Se comunque Viene sonorizzato bene o no Difficilmente si sonorizza una cosa del genere Soprattutto a volume massimo però Intanto mutiamo il microfono Molto comodo Molto comodo Il controllo di gestione dell'audio Microfono Qua sul lato sinistro Poi ovviamente vi dovrete abituare Per il semplice fatto Che magari Non sapete inizialmente Quale è il microfono Quale è l'audio Quale è l'altro tasto in più Che c'è Principalmente sono tre Quindi accensione Volume E microfono Quindi Ci vorrà un po' per prenderci l'abitudine Ma Ce la farete piano piano Ok quindi per quanto riguarda l'audio Piano meno vi posso riportare Che bene o male Si sente abbastanza bene Non è una di quelle cuffie Da due o trecento euro Assolutamente no Ma Si sente bene Si sente bene Per quello che devono fare Si sente bene Io proverei adesso Ad andare a fare una registrazione Qui su Audacity Mi rileva comunque già Lo SteelSeries Arctis 1 Come Periferica per la registrazione Quindi non ci viene scritto Real tech o altro Io adesso Vado ad attivare il microfono Visto che ce l'avrei Disattivato Prova prova Elia Elia Prova prova Sembra molto basso il volume Questo è il volume Che sto Questo è il volume del microfono Che sto utilizzando adesso Quindi questo qui Wireless Siamo a neanche Meno di un metro Comunque meno di 50 cm Di distanza dal dongle Non ce l'ho molto lontano Il computer ce l'ho qua di fianco Non ci sono particolari Reti wifi O altre Reti che comunque potrebbero Danneggiare o dar problemi Non dovrebbero comunque farlo Anche le reti wifi stesse E questa è principalmente La prova del microfono Se noi andiamo un attimo Solamente a vedere In gestione Dispositivi audio Registrazione Andiamo a vedere Il nostro SteelSeries Andiamo a vedere solamente Che impostazioni ci sono Già attive Il microfono è a 100 Quindi più di così Difficilmente riuscirete a fare Mi sembra un po' basso Come volume Bisognerà poi vedere Se ci sarà l'applicazione Forse c'è C'è anche un'applicazione esterna Da quel che ho visto Aspetta C'è anche un'applicazione esterna Da quanto ho visto sul loro sito Che sarebbe L'engine Che vi permette di andare A modificare audio E altro Quindi io lo vado a scaricare Per Windows Lo andiamo solamente A provare insieme Per capire come funziona Prova 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 Elia Elia Questo è il volume Del microfono Che rispetto Al nostro Altro headset Risulta essere più alto Almeno sembra Risultare essere più alto E Non ci sono particolari problemi Come può essere Con quello wireless Quindi di conseguenza Il cavo è collegato Direttamente al PC Tramite Le porte presenti Dietro Ok Quelle dietro Non quelle davanti Non quelle frontali Credo che comunque Il microfono Anche di questo headset Non sia malaccio Dell'HP Omen 800 E niente Questo era solo Un test audio Ok quindi entrando nel software Che ci viene fornito Dalla stessa SteelSeries Abbiamo la possibilità Andando a una sezione Engine Di controllare Diverse impostazioni Legate Al nostro headset Quindi per esempio Se noi andiamo qui Innanzitutto Vediamo già quanto manca Alla Scarica Diciamo completa Quando si scarica Non completamente Abbiamo il simbolo Della batteria Proprio già Sull'engine Nell'elenco Dell'attrezzatura Poi Ci viene innanzitutto Fatto vedere Come è collegato L'ediset In questo caso Quindi attraverso Il dongle Ci sono I tasti Multimediali I tasti Per Ci viene spiegato Come poter utilizzare I tasti Per Le varie applicazioni Nel senso Qui ci viene detto Che possiamo avviare E concludere Una chiamata Con una pressione singola Mettere in pausa O avviare la canzone Con una pressione singola Sentire la prossima traccia Con la precedente Facendo invece la pressione doppia O in caso anche tripla Altre cose importanti Che abbiamo qui Abbiamo la personalizzazione Degli autoparlanti Nel senso Che possiamo Abbiamo questa specie Di equalizzatore Che ci fa Modificare le varie frequenze E in base ovviamente A gioco Musica E quant'altro Quello che ci serve meglio Diciamo Poi abbiamo la compressione Dell'intervallo dinamico Sul lato destro Invece abbiamo la possibilità Di sentire in anteprima Il microfono Poi abbiamo il controllo in cuffia E infine abbiamo l'opzione Energia Che ci permette di spegnere Le cuffie in automatico Se per esempio Non vengono utilizzate Per tutto tempo E questo è quanto Ci viene fornito Dalla stessa SteelSeries Per la gestione Complessiva Diciamo Dell'headset Che comunque Mi piace abbastanza E quindi andiamo E quindi andiamo a provarlo In gioco Per capire un attimo Come funzionano Prima impressione Dopo Dieci minuti Che ce le ho in testa Spingono molto Spingono molto Sulla parte superiore E sulla parte inferiore Proprio sotto le orecchie Perché si vede Che sono cuffie Che devono andare a coprire Proprio Il tutto Per permetterti Di immergerti Completamente Nell'azione Cosa che mi dà fastidio Ovviamente Come avete ben capito È stamenata Del dongle Ci sta Secondo me ci sta Perché in alcuni casi Diventa essere In alcuni casi Più comodo Ok È più comodo Perché vi permette Di andarlo a nascondere Magari da qualche parte Però capite che Se uno Magari Devi switchare Da un apparato A un altro Inizia ad essere Un po' Una cosa Difficile da fare Insomma Andando quindi partita Provo un attimo A vedere Come si sente Alziamo il volume Vedo già un nemico Bastardo Vieni qua Dove sei Dove sei Stai prendendo Di Dobbiamo prenderla Ragazzi Non sto parlando Con nessuno Non vi preoccupate Vai 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 così Mi sa che ho scelto Proprio La versione Fanatico Che non mi piace Chi è che urla Allora Sembra che Gli altri Siano Si sentano di più Rispetto a delle altre Cuffie che ho Ah forse Mancano i medi Si sentono i bassi Si sentono gli alti Sembra che manchi qualcosa Sembra che manchino i medi All'appello O meglio Devo un attimo Ancora abituarmi Però Devo anche capire Se magari Anche in gioco Devo andare a selezionare Qualcosa di particolare Quindi se noi andiamo Sulla sezione audio Tipo di autoparlanti Mettiamo cuffie Ovviamente Surround Surround Va bene Volume Non ci interessa Salviamo le impostazioni Come si sente adesso Insomma Cioè effettivamente Rilevo il fatto Che c'è l'elicottero Che ce l'ho un po' a destra Che mi sta passando Pian piano sopra la testa Capisco da dove vengono I suoni E le direzioni dei suoni Queste sono cose Che comunque riuscite a sentire Magari anche su Un semplice auricolare Però sembra che manchi qualcosa Sembri che non completino Tutto l'orecchio Nel senso che con le vecchie HP Omen Almeno riuscivo a sentire L'audio Su tutto il padiglione C'ero completamente sommerso Nell'azione Succa Oh cazzo Qua invece mancano i bassi Quindi vi tolgono un po' di azione Però per il resto Comunque ucciso in azione Proprio il resto Sono abbastanza buone Non sono quello che cercavo Però sono abbastanza buone Ok adesso già Inizio comunque a sentire Un po' più di rumori Poi c'è anche da dire Che Battlefield 4 È un gioco vecchio Quindi magari Ci sono cose particolari Legate all'audio Che su altri giochi Più recenti si trovano Su questo no Giusto per dirne una Non ne sono sicuro Oh Distrutto io Sapete perché Non gli stavo facendo niente Perché c'era il mio collega Lì Che non si sapeva Cosa stesse facendo Quindi pensavo Ma magari è suo Porca troia Da dove Quindi ragazzi Per concludere Primissime impressioni Riguardanti questo headset Sono abbastanza comode Spingono ancora molto Perché secondo me Devo Ovviamente Adattarle ancora Alla mia testa Quindi ci vorrò Ancora un po' E Spingono ancora un po' Qua sotto Sotto l'orecchio E Qua Diciamo che La pressione Si è un po' Uniformata Però ci vorrà ancora del tempo Per questa cosa qui Sono fatte per il gioco Quindi perché si può andare A modificare alcune cose Alcuni particolari Alcuni dettagli Togliere l'headset Togliere il microfono Modificare il volume Tutto da qui Tutta la possibilità Di fare tutto Direttamente da questo Da questi Padiglioni qua Sono abbastanza interessanti Come cuffie Per quanto riguarda l'audio Devo ancora capirlo meglio Perché non mi sembra pieno Come ce l'avevo prima Con le Omen Se vi faccio vedere Un attimo Confronto Veloce Vedete adesso Come ce le ho Ok Se vado a mettere le Omen Queste occupano di più Sono più grosse Non so perché In qualche modo Queste sembrano Sembrano comunque Che pesino di più Anche se dovrebbe essere Distribuito per lo più Il peso Su questa fascia qua sopra Però A quanto pare Sono queste Che mi danno fastidio I padiglioni sono più freschi Perché dovrebbero essere Di finta pelle Probabilmente ecopelle O comunque robe Abbastanza economiche Però bene o male Dai sono delle cuffie Abbastanza interessanti Cose che vedrò comunque Anche nei prossimi giorni E come si comporteranno Anche durante lunghe sessioni Di gaming O comunque anche di Possiamo dire cazzeggio Mi piacciono Mi piacciono molto Vedrò Vedrò poi nei prossimi giorni Come si comporteranno Al massimo vi dirò qualcosa in più Però devo ancora capirle meglio Nel senso che sono In un bivio Tra il restituirle O tenerle Devo ancora capirle meglio Devo ancora capirle meglio Perché costano Dopotutto 120 euro Quindi Io non mi sono mai Spinto così tanto Per delle cuffie Anche se La possibilità economica Adesso ce l'ho Ma non ne vedo comunque Del perché Andare a spendere Tale cifra Oltre che ovviamente Per le varie funzionalità Che sono presenti Come in questo caso Con queste cuffie qui Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate like Commentate Condividete Ditemi qua sotto Cosa ne pensate Di tutto ciò Se le avete comprate Se volete comprarle O se comunque avete visto Modelli simili Quindi volete qualche confronto Qualcosa di più dettagliato Che volete sapere da me Per quello che posso dirvi Ovviamente Noi ci salutiamo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.